Ebbene carissimi amici, una buona serata a tutti voi, ben ritrovati come sempre qui sul mio canale YouTube. Andiamo ad analizzare quello che è successo nella penultima estrazione dell'anno, quella di venerdì 29 dicembre, e vi faccio notare subito da questo quadro estrazionale qualcosa che ha dell'incredibile, cari amici. Quando parlo e vi dico determinate cose, poi voi le vedete realizzarsi sul quadro estrazionale. Quando il sottoscritto parla del 90 non ce n'è per nessuno e questo lo potete dire voi stessi, perché si tocca con mano quello che succede sul quadro estrazionale, sotto i vostri occhi. Quindi è una cosa lampante. Vi avevo detto e ve l'ho regalato, quindi chi l'ha vinto può mandarmi i cettolini via whatsapp, 3487547715. Vi avevo detto, dalla spia 53 di Torino, il calcolo mi porta il 90 a Genova. Ve l'ho detto chiaramente, due colpi, cari amici, due colpi in 90 in quarta posizione sulla ruota di Genova. Ve l'ho regalato, come vi regalo le ambate di tutte le mie spie. che metodi sono i miei metodi spie, cari amici? Che capolavori, che potenza, che forza, che efficacia estrattiva sono questi elaborati, cari amici? 90 vinto a Genova in quarta posizione. Attenzione perché non finisce qui, perché chi non ha preso il metodo lo prenda adesso, perché è probabile che possa uscire ancora il 90 e dare l'ambo secco. E vi faccio vedere quello. Perché dico questo? Perché su Firenze noi avevamo, e l'andiamo a riprendere, la spia 18 di Milano. 11 dicembre. Vi ho dato, quando uscì questa spia, vi diedi il 90 a Firenze. Benissimo. Al quinto colpo noi andiamo a vincere il 90 sulla ruota di Firenze, in quinta posizione, l'ambo secco 93. Chi aveva il metodo in mano? Io ho detto, continuate il metodo, perché paga di nuovo. cosa è successo? Ancora il 90 a Firenze e ancora un ambo, cari amici. 90 e 41. Quindi la spia 18 di Milano paga doppio 90 a Firenze e doppio ambo con il 90. 93, 90 e 41. E questo io ve lo faccio vedere dalle statistiche delle mie spie, che arrivano le vincite multiple. E poi lo vedete realizzarsi su quale estrazionale. Stiamo chiudendo, cari amici, un 2023 da sballo con i miei metodi spia. Non ci sono metodi potenti come questi. Fanno spavento. Io vengo in video, in diretta, vi vengo a dire, attenzione, vi do il 90 su singola ruota, vi dico precisamente dove esce il 90, vi do i cinque abbinamenti e arrivano ambi secchi a valanga. Quindi adesso chi non ha preso il 90 di Genova lo prenda con i cinque ambi unica ruota, perché non vorrei che fa la fine di Firenze. Impegno di giocata, modalità vincita venuta, con i cinque ambi unica ruota, metodo spia che rimane sempre vostro anche nel futuro per la vostra collezione personale. Potete contattarmi via WhatsApp per le mie spie, ormai non ci sono più parole, cari amici, per descrivere la forza di questi metodi. 348 75 47 715. Andiamo a vincere alla grande con i miei metodi spie, cari amici. Io poi la scorsa estrazione vi ho detto chiaramente quando era uscito il 90 di Cagliari, voi ve lo ricordate, il sabato 23, cosa vi ho detto? Allora chi mi segue nelle analisi sicuramente se lo ricorda. Vi ho detto guardate che il doppio 90 in quinta posizione Cagliari-Firenze porta la ripetizione sia su Cagliari sia su Firenze. Io ve l'ho detto. Sortì subito il 90 a Cagliari a colpo, ma io cosa vi dissi? Attenzione perché si ripete pure a Firenze. Andatevi a sentire le mie analisi. Vi dissi si ripete pure a Firenze. E così è stato. Quei due 90 sortiti Cagliari-Firenze in quinta posizione hanno portato la ripetizione del 90 su entrambe le ruote e c'erano dei segnali importanti al di là di questa esotopia in quinta posizione. Attenzione cari amici, seguitemi alla lettera su quello che vi dico. Attenzione. Questa sera, al di là di queste vincite eclatanti, perché sono usciti altri 2,90, pensate, sono usciti 2,90, prima Cagliari, Cagliari-Firenze-Isotopi. Poi si ripete a Cagliari, poi si ripete a Firenze e poi esce a Genova. Il 90 esce dove dico io. Il 90 esce dove dice il sottoscritto. Il 90, chi mi ha seguito, l'ha vinto in ripetizione. L'ha vinto a ripetizione. Due volte a Cagliari, due volte a Firenze, questa sera a Genova. Ma di cosa stiamo parlando, cari amici? Di cosa stiamo parlando? Questi sono miracoli questi qui. Di cosa stiamo parlando? Questo è studio approfondito. Questo è professionalità. Questo è serietà. Io vi porto delle spie incredibili. Io vi dico dove esce il 90 e non solo dove esce il 90. Io vi dico anche dove si ripete. E lo andiamo a vincere. Quindi attenzione a seguirmi, eh. Attenzione a seguirmi sulle spie. Questa sera, attenzione bene. Bari porta un ambo a distanza 1. La scorsa estrazione vi ho fatto vedere. La cadenza a 2, vi ho detto Genova-Milano, attenzione. 82, 72, 42, 72. Vi ho fatto vedere questa figura a 9, tra le ruote di Genova-Milano in diagonale. E vi ho detto attenzione, perché Genova, tra l'altro, portava l'ambo a distanza 1, 69 e 70, con l'1 e tutto il resto. Quindi vi ho fatto vedere diverse situazioni. Il 6 in terza, il 39 come spia, la figura a 9 in prima. Guardate i miei segnalatori come segnalano precisamente. Questa sera, ambo a distanza 1 Bari, con il 5 e con l'85, somma 90 sulla ruota di Bari. Attenzione a questa ruota. Attenzione a questa ruota. Perché dopo Cagliari arriva Bari. È sempre una coppia forte. Ma Bari abbiamo un trittico di cadenza 5, ambo a distanza 1, col 5 all'85, somma 90, e il 5 all'85, segnalatori. Cagliari porta la cadenza 2, 62, 52, distanza 10, e anche la cadenza 8 unita, 28, 68. Avete imparato con me che le cadenze unite portano il 90. E Firenze, stessa cosa, 8, 28. Ok? Milano rimane ancora forte. Abbiamo il 6, il 20 e il 48. Tre ottimi segnalatori. Il gemello in terza posizione. Dice sì al 90. L'88 è già forte di per sé. In terza in questa maniera, con la cadenza unita a 18, ci conferma Bari e Napoli. 18 figura 9. Quindi ci conferma Bari e Napoli. Figura 9 in prima sia Palermo che Torino, che Roma. Tripla figura 9. Io ve l'ho detto che dicembre si concludeva con il botto. E avete visto quanti 90 sono arrivati. Le mie parole ve le dovete segnare a caratteri cubitali. Ok? Torino, ambo di cadenza, anche qui distanza 10, 37, 47. Quando trovate l'ambo di cadenza distanza 10, quello è molto efficace. La cadenza 6 in terza Venezia. Il 39, segnalatore. Nazionale porta l'81 figura 9. Ma quello che mi piace in questa estrazione è sicuramente Bari. Confermata da Napoli. Quindi potrebbe arrivare anche la ripetizione sul Napoli. Analizzerò il quale estrazionale. Vedrò se ci sono delle spie forti da poter giocare, che mi portano il 90. Ve le andrò come sempre a presentare. Ma vi ho presentato Firenze e l'abbiamo vinta. Vi ho presentato Genova e l'abbiamo vinta. Genova si continua, attenzione, perché può accadere di tutto. Bari la vedo molto forte come ruota. Anche perché c'è somma 90 di cadenza 5, molto bella. Cagliari-Firenze c'è questa distanza 1, 7, 8 in terza posizione in isotopia. Triangolo di cadenza 8, 28, 68, 28 con il 28 in diagonale uguale. Dove avete visto questa situazione? Estrazione scorsa. Triangolo di cadenza 2 col 72 diagonale stesso numero. Quindi qua Cagliari-Firenze può ancora succedere di tutto. Poi abbiamo questo zerato 90-20. Genova-Milano in isotopia. Molto bello. Il gemello in terza, Napoli, l'abbiamo visto come sempre molto forte. Quindi contattatevi via WhatsApp per avere le spie. O chi fosse interessato, anche le mie previsioni a vincita venuta a colpo. Che ci hanno dato anche belle soddisfazioni in questo mese di dicembre. O chi fosse interessato ad acquisire anche metodi e software. Ci sono bellissime promozioni. Il mio numero lo trovate sempre in descrizione. Perché molti mi commentano come ti contatto, come ti contatto. Ma se io lo dico mille volte, il mio numero è per contattarmi via WhatsApp. E sta scritto anche in descrizione. Voglio dire, queste persone che commentano come faccio a contattarti. Cioè, io poi rimango senza parole. Cioè, non è che ci vuole, voglio dire, ci vuole la laurea, insomma. Cioè, lo dico, il numero lo sapete. È scritto in descrizione, cioè, non ci vuole niente, no? Oh, quindi. Contattatemi anche per informazioni. Poi, Palermo, bella questa figura 9, 72-63. Ambo di metri in decino, unito 13-18 sulla ruota di Roma. E c'è il 45 figura 9. I quali estrazioni stanno parlando molto chiaro, eh? Ne vedremo di 90. Si finisce e si inizia il 2024. Questo mese di dicembre, veramente, 90 a raffica. Sono state le ultime estrazioni. Cosa abbiamo combinato? Da sabato 23, doppio 90, Cagliari-Firenze. Poi ancora Cagliari il 27. E ancora doppio 90 il 29, Firenze-Genova. E io ve l'avevo annunciato. Vi dissi le ruote alte, state molto attenti. Qualche analisi fa, vi ho detto, le ruote alte, state molto attenti alle ruote alte, perché i segnali erano forti. Manca solo a Bari, all'appello vedremo. Cosa succederà se magari chiuderemo domani l'anno con l'estrazione di sabato 30, con un grande 90 sulla ruota di Bari. Chi lo sa? Tutto può accadere. Vediamo ancora un po' cosa c'è. Se c'è ancora qualcosa da poter dire, da poter segnalare. Alcuni di voi già mi hanno mandato il 90 a Genova. Sono contento che, seguiti i miei consigli, giocato a 5 euro. Bella vincita, perché no? In due colpi. Bella vincita. Qui abbiamo un altro 90, giocato alla grandissima quarta e quinta posizione. Qui c'è un altro 90. Qui ci sono 200 euro di vincita, cari amici. Questo è un 90 appuntato a 4 euro su ogni posizione. Queste sono vincite, cari amici. Soltanto ascoltando i miei consigli e seguendo le mie spie. Soltanto seguendo le mie spie. Persone che alla fine dell'anno si mettono in tasca i soldini. Fanno mica schifo 200 euro in più in tasca a Capodanno, no? Non fanno mica schifo. Soldini in più a Capodanno. Soldini in più a Natale. Le mie spie hanno strapagato Natale e Capodanno. La stessa spia, oltre questa di Genova, che ha preso l'estratto in posizione, quella con i 90 a Firenze, ha vinto l'ambo a Natale e l'ambo prima della fine dell'anno. Il 93 il 23 dicembre, il 90 e 41 il 29 dicembre. Cioè, cosa volete di più? E avevamo soltanto due spie in gioco. Il 90 a Firenze e il 90 a Genova. Sono usciti tutti e due. Attenzione, cari amici. Attenzione. Attenzione ai miei metodi spie. Attenzione, perché ne vedremo. Ancora delle belle. Realizzeremo ancora tante vincite, anche nel nuovo anno. Quindi seguitemi veramente con attenzione. Mi raccomando. Vediamo se possiamo dire ancora qualcosa. Mi sembra di no. Quindi, qui c'è la figura 9 anche in terza, sulla ruota di Roma. 45 e 18, l'abbiamo detto. 18 figura 9 ripreso anche su Torino. La distanza 10 tra una 7 e 47, anche su Torino. Cadenza 7. La distanza 1 anche su Venezia, 26 e 27. Quindi un altro bel quadro estrazionale, molto interessante. Vedremo l'estrazione di chiusura dell'anno, se ci porterà ancora a belle soddisfazioni vincenti. Per adesso un saluto a tutti, Mister Sbancolotti.